Livia ha 31 anni, italiana, Umbra, e si è diplomata alla Paolo Grassi di Milano in regia. Dal 2015 fa parte della compagnia dei giovani del Teatro Stabile dell'Umbria e sempre nello stesso anno ha fondato la propria compagnia Baby Work, con la quale ha affrontato un percorso difficile e delicato sul tema dell'identità di genere. Con gli spettacoli Stab at Mater, Peter Pan guarda sotto le gorne e con Un Eschimesi in Amazzonia, che è uno spettacolo ancora in lavorazione. Livia Fierracchiati viene in biennale con tre spettacoli, due che fanno parte di questa trilogia dell'identità, appunto Peter Pan guarda sotto le gorne e Stab at Mater, e con un terzo spettacolo che riassume alcuni temi che Livia tratta anche abitualmente, ovvero quelli anche della difficoltà di vivere in provincia con i propri conformismi, con i propri livori. Lo spettacolo si chiama Todi is a small town in the center of Italy, è un titolo molto ironico, anche l'ironia dei titoli è una caratteristica di Livia, e racconta attraverso un'indagine condotta sul campo da un documentarista, che cosa non è giusto, che cosa non è bene fare a Todi.